Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Vi presento un nuovo gioco di Harry Potter uscito da qualche settimana della Repos Games ed edizione italiana a cura di Asmod Italia che ringrazio di cuore per la copia fornita. Si torna a parlare del magico mondo di Harry Potter, si torna a parlare di Hogwarts e questa volta si va a parlare di scontri diretti tra giocatori in un gioco veramente molto interessante che secondo me nelle meccaniche un pochino ricorda anche un capolavoro, uno dei miei giochi da tavolo preferiti, board game preferiti che è Bang ed è veramente molto interessante perché qui si andranno a fare sfide dirette fra i maghi ed è un titolo molto interessante e ve lo racconto dopo la sigla. Harry Potter Stupeficium a cura di Asmod Italia in questa edizione italiana localizzata è un gioco velocissimo, veramente velocissimo, ora ve lo farò vedere nel corso del video il regolamento sono quattro pagine di cui due pagine sono copertina e chiusura dietro e conteggio di punti, quindi è veramente velocissimo e ci vede nei panni di un mago, ovviamente un maghetto, delle varie case che sono serpeverde, grifondoro, corvo nero e tassofrasso o tasso rosso e questo gioco forse l'unico problema che ci ho visto è che il numero minimo di giocatori è quattro, si gioca da quattro a otto, quindi si possono fare anche due per casa dandosi manforte, ma non c'è la possibilità di giocarlo o con meno di quattro o soprattutto in solo, quindi questo lo dovete comprare solo se ci avete almeno quattro persone al tavolo anche con tre non si può giocare, perché comunque le case devono essere tutte rappresentate e c'è la sfida alla gara delle case dove si vanno a guadagnare punti e la casa che ha fatto più punti a fine partita ha vinto all'inizio si mettono otto carte ricompensa più una carta centrale, quindi sarebbero nove, che è la carta del primo della classe che c'è ovviamente rappresentata sopra Ermione si mette questa carta prima della classe centrale e otto carte messe poi tutte quante come vedete nelle immagini e queste carte ricompensa si vanno a guadagnare vincendo i duelli ciascun mago prende il suo mazzo dove dentro al mazzo ha delle carte colpito, delle carte mancato oppure può utilizzare o una carta colpito o una carta mancata per fare un protego protego, chi legge i libri di Harry Potter o ha visto anche i film sa che è l'incantesimo di scudo di protezione che serve per pararsi dei colpi appunto che ci sono stati inferti e mandati contro un classico incantesimo d'attacco potrebbe essere un Vermilius per farvi capire che qui non sono rappresentati a livello di formula e tutto quanto però comunque abbiamo sempre la carta colpito e la carta mancato carta mancato vuol dire che non avete lanciato nessun attacco, non tanto che siete mancati voi perché voi vi andate a proteggere con protego, quanto che avete mancato voi il vostro bersaglio e ne avete tipo tre carte colpito di quelle che dovete pescare il resto sono mancato e poi le potete come detto convertire quando inizia la giocata ciascun giocatore dalla sua mano sceglie una carta e la mette coperta davanti a sé quando tutti gli altri maghi hanno fatto lo stesso si rivela la carta e si prende la bacchetta e il giocatore prende ci sono veramente le bacchette che sono spettacolari come vedete nel video e le bacchette si vanno a puntare contro il giocatore che vogliamo attaccare stando fermi senza pronunciare ovviamente niente, soltanto puntandola così che il giocatore capisca che è stato bersagliato quindi che ne so se a quel giro tutti vogliono bersagliare Corvo Nero, Corvo Nero si ritroverà a tre case che gli puntano la bacchetta a quel punto che le carte non sono ancora state girate si punta la bacchetta poi tutti insieme si gira la carta e bisogna ovviamente dire cosa c'è sulla carta tipo attacco magari quell'altro fa mancato, probabile che abbia usato tutte quante le sue carte e non ce ne abbia più in mano quindi il potenziale è un po' si esaurito quell'altro attacco e volendo il giocatore che viene bersagliato o la sua carta la converte in un proteggo quindi si protegge direttamente oppure potrebbe prendere tutti i colpi che gli vengano inferti però magari lui vuole per forza portare l'attacco contro il griffondoro così da eliminarlo dalla partita o fargli perdere punti quindi anche una tattica a volte subire, assorbire colpi per attaccare il proprio avversario però contate che chi vince la sfida va a pescare poi fondamentalmente una o più carte all'interno di questa riserva di questo parco in comune alla portata di tutti e queste carte possano essere scelte o ovviamente per diventare il primo della classe e chi diventa il primo della classe è un po' il primo giocatore fondamentalmente o prendere tutte quante le carte di compensa intorno che potrebbero essere magari potresti avere un professore alleato come Piton per farvi un esempio che ti dà dei bonus a giocare oppure alcune carte come poi combinazione finale danno incrementano il punteggio quindi alcune carte magari non danno un effetto immediato ma ti incrementano il punteggio a fine partita quindi è bene sapere insomma quando attaccare, quando difendersi e soprattutto di usare bene le carte perché prima o poi quelle di attacco finiranno in conclusione Harry Potter Stupeficium è un titolo veloce, interessante, alla portata di tutti e assolutamente per tutti è un titolo che non serve manco una partita per impararlo ma basta veramente un giro ed è un titolo molto interessante perché comunque è Harry Potter, è nell'ambientazione di Harry Potter ed è veloce, a differenza di altri titoli che ho visto magari un pochino più complicati un pochino più complessi, un pochino più da spiegare questo si apre, fai fare un giro a tavolo, non spieghi nemmeno le regole fai fare un giro dopo la seconda occhiata, ha già capito come funziona ed è bellino ve l'ho detto perché un po' ricorda Bang con queste anche fondamentalmente la bacchetta non serve a niente, è una componente però è bellino vedere magari uno che te la punta addosso e poi magari ti attacca ti ributta un po' in quell'ambientazione di Harry Potter quindi il suo lo fa e per me è azzeccatissimo metterci le bacchette ringrazio ancora una volta Asmod Italia per la copia fornita se volete ordinarlo, primo link in descrizione sovraimpressione dal nostro negozio sponsor gioco libreria Simola al miglior prezzo sul mercato se lo trovate sul sito ma è finito oppure digitate Harry Potter Stupeficium e proprio non lo trovate in lista scrivete comunque a Corrado, al proprietario della gioco libreria Simola cliccando sul supporto scrivete sul supporto e fate presente che arrivate dal mio canale dal canale di Coridan lui farà il possibile per farvela avere al miglior prezzo sul mercato anche se fuori catalogo, se è possibile ve lo ordina anche roba che non ha e soprattutto ricordatevi di usare sempre il codice discount importantissimo Coridan 7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiore ai 79€ su tutto il catalogo anche fuori da board game avrete spedizioni postali omaggio in 48 ore, 24-48 ore vi arriva a casa isole comprese e anche fuori dall'Italia in tutta Europa quindi gioco libreria Simola è sempre un servizio eccellente e impeccabile io ringrazio ancora una volta Asmod Italia fatemi sapere cosa ne pensate e per me è un titolo veramente carino alla portata di tutti e divertente ci passo una serata ciao ragazzi alla prossima se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione, primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook al canale mio di Live Twitch alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì ciao alla prossima